allora io vi insegnerò a fare questa collana cambiando soltanto il colore invece del viola io userò il fucsia e qui invece di questi questo verde userò due tonalità del verde per fare questa collana vi servono 2,7 metri di sezioni di filo la vostra scelta io ho utilizzato la coda di topo questa che è la più semplice da utilizzare ma va bene qualsiasi tipo di filo quindi praticamente vi servono quattro sezioni viola se volete farla così e otto sezioni verdi quindi in tutto sono quattro fili di colore che daranno il colore al torsion viola e otto fili che daranno invece origine alla parte verde ora vi faccio e chiaramente ogni ogni volta che finiremo la il giro dovrete ripartire dall'inizio quindi vi conviene segnarvi i passaggi perché anch'io li devo segnare perché sono molto abbastanza numerosi per cui ricordarsi di tutti è abbastanza difficile allora si parte allora innanzitutto prendete tutti i fili li mettete assieme li hanno date qui come ho fatto io e questo vedete il risultato che io sto ottenendo con questa modalità utilizzando fucsia e quattro tipi di tre tipi di verde diverso che è una variazione di questo sostanzialmente però il cordoncino che ottenete questo qui è rimpicciolito allora partiamo dal cumino il cumino dovete metterlo